Mattia Pacella in diretta proprio da Belinzona, buongiorno, ti chiedo subito se ci sono novità sui contenuti dell'incontro tra Simonetta Sommaruga e le autorità cantonali, cosa puoi dirci? Sì, ben ritrovati da Belinzona, la novità è che Simonetta Sommaruga, la Presidente della Confederazione, è appena arrivata a Belinzona, pochi istanti fa, cinque minuti fa, un incontro, quello con il Consiglio di Stato incorpore, che era previsto da tempo, ma quest'oggi possiamo dirlo, Sommaruga ha tenuto a ribadire l'importanza di essere qui oggi in Ticino, prima l'avete visto a Cadenazzo, il centro di smistamento della posta, e oggi qui a Belinzona, dove sta incontrando proprio in questi istanti il Consiglio di Stato incorpore. Di cosa si parlerà? A seguire l'incontro con il Consiglio di Stato, Simonetta Sommaruga avrà un incontro con il settore turistico ticinese, presente quasi sicuramente il Presidente Aldo Rampazzi di Ticino Turismo, il Direttore Angelo Troccia e probabilmente ci sarà anche Marco Solari, il Presidente del Film Festival di Locarno. Queste dunque le persone che parteciperanno a questo incontro, non si esclude anche altri partecipanti. Di cosa si parlerà? Beh chiaramente il settore del turismo è un settore in piena crisi, in questa crisi Covid, una crisi anche economica, l'abbiamo detto più volte. Ieri sono uscite delle cifre, si parla di circa 8 miliardi, oltre 8 miliardi di mancati introiti in questi mesi primaverili, e si parla di un 20, 25% e meno per l'estate. Dunque sicuramente si parlerà di queste questioni, va detto, c'è un po' di serenità dal punto di vista del turismo ticinese, perché le misure di elentamento annunciate pochi giorni fa arriveranno l'11 maggio, e poi perché, come lo abbiamo detto, quest'anno sarà verosimilmente un'estate dove gli svizzeri faranno vacanze in Svizzera, e il Ticino potrà sicuramente privilegiare, già essendo una terra di turismo interno alla Svizzera, si parla di un 70% di turisti che abitualmente vengono d'oltre Alpe, quindi anche quest'anno si spera di avere più gente. In Ticino va detto però che non ci saranno i grandi eventi, magari è per questo che ci sarà quest'oggi Marco Solari presente all'incontro con Simonetta Sommaruga, quindi un settore sicuramente che dovrà cambiare pelle quest'anno, vedremo quali saranno i dettagli, noi comunque seguiremo con la diretta sulla 2 alle 13 e 45, si terrà una conferenza stampa di Sommaruga proprio alle mie spalle attorno alle 2 e 2 un quarto. Questi dunque sono i dettagli che emergono fino ad ora, se non ci sono altre domande io vi riciderò la linea a studio. Va bene così, piatto forte dunque turismo, ne parleremo anche noi tra poco nel telegiornale. Grazie Mattia Pacella in diretta da Bellinzona, a voi che ci state guardando invece segnalo anche io che a partire dalle 13 e 45 su RSI la 2 trasmetteremo appunto uno speciale durante il quale seguiremo la conferenza stampa di Simonetta Sommaruga e delle autorità cantonali.